Gli ospiti aspettano e... E dati da fare, assaggia? Sì, sì. Sì. Mmm, perfetti, scolapasta, scolapasta, dai. Nella pentola, no? Nella pentola, va, 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 dai. Ma sì, Raimondo, guarda, è nella nuova pentola con scolapasta che ci ha regalato Fini. Boh! Con solo 55 punti, le paste fresche Fini regalano la signora dei tortelli, l'Agostina. Fini, da Modena. Allora? Buoni! Squisiti! Sono Fini! Più che altro, sopra Fini.